Il 21 febbraio di ogni anno viene celebrata in Italia la giornata nazionale del Braille. Il Braille è il sistema di scrittura e lettura a rilievo ideato dalla francese Louise Braille, che consente ai ciechi di leggere, di scrivere, di comunicare, di fissare il proprio pensiero, di studiare e di integrarsi nel contesto sociale di appartenenza. L'originalità del sistema Braille consiste nella sua perfetta rispondenza alle esigenze della percezione tattile. Infatti la principale preoccupazione di Braille fu quella di trovare una scrittura leggibile attraverso il tattu adoperando alcune dita della mano. Come ogni anno, in questa occasione, la sezione provinciale di Catanzaro dell'Unione Italiana Ciechi e Dipovedenti ha organizzato diverse iniziative. Alla presenza del presidente provinciale Luciano Loprete, del presidente regionale Anna Maria Palummo e del legale dell'Unione Giorgio Rognetta, i partecipanti hanno illustrato i miglioramenti resi possibili dal sistema Braille nel lungo e difficile percorso di emancipazione di ciechi e dipovedenti in una società ancora poco inclina all'integrazione e all'inclusione. Contesti non ancora adattati e strutture poco accessibili, indifferenze e precarità rappresentano purtroppo ancora difficoltà quotidiane. Ecco perché occorre ribadire e difendere il percorso di crescita portato dalla sistema Braille. Beh, ricordare l'importanza del Braille alle scuole, alle amministrazioni pubbliche, alle persone vedenti normodotate e soprattutto alle persone non vedenti. Il Braille è importante. Rivalutiamo questo sistema, diffondiamolo. Sì, 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 oggi in tutta Italia ogni associazione provinciale organizza questa giornata nazionale proprio per diffondere la cultura del Braille. La mia forza sono loro. Quando vedo la necessità, quando vedo l'affetto, quando vedo l'affiancamento di giovani, anziani, di gente che ha voglia di dare, quella è la mia forza. Da lì prendo la mia forza. Quindi se mi state vicino, come diceva Orsola prima, non mollerò mai, ma sta anche a voi. Vincenzo, raccontaci un po' la tua esperienza. Allora, io mi chiamo Vincenzo e sono da La Mezzia. Io nella mia vita non ho avuto un grande insegnamento scolastico, però da quando ho conosciuto l'Unione ho avuto delle emozioni particolari, specialmente il giorno che il Presidente mi ha detto che doveva imparare il Braille. Ho tastato il primo tasto e lei mi ha detto, vedi che questa è un A. Ho toccato un pallino piccolino, quello era un A per me, era come se, non lo so, Iari è andato sulla luna. Per me era la stessa cosa, trovare un puntino e chiedermi, questa è un A, ma che devo fare? Devi fare la B, hai capito? Questo e questo, ok. Faccio la B, poi dopo tanto tempo ho scritto il mio nome. Eh sì, sto migliorando, diciamo. Prima diciamo che non lo sapevo nemmeno io, però piano piano poi mi sono imparato. Ora leggi e scrivi velocemente quindi? No, non tanto velocemente no, anche ancora devo imparare. Come va con il Braille? Il Braille l'ho imparato, ho imparato tardi a 40 anni, sono ritornata a scuola per imparare il Braille e grazie al Braille, grazie ai supporti informatici, ho riconquistato la mia autonomia, la mia dignità e mi sento finalmente una persona felice. Perché anche grazie all'Unione ho accettato il mio problema, ho trovato una famiglia che mi sta sostenendo, mi sta aiutando e posso finalmente dire grazie di tutto. E devo ammettere che grazie all'Unione ho imparato a conoscere Braille, la sua grandezza, non è, può sembrare qualcosa di difficile, io sono abbastanza grande, però devo dire che se ci si impegna non è poi complicato. C'è un po' di difficoltà soprattutto a leggere per noi, i povedenti, che magari abbiamo perso la vista più tardi, quindi non abbiamo così sviluppato il dito come ce l'hanno invece, però ce la facciamo. A fine convegno i ragazzi del Coro dell'Unione hanno salutato gli intervenuti con alcune canzoni che hanno fatto riflettere sulle tante difficoltà ancora incontrate da cecchi di povedenti nella vita di ogni giorno. Con gli altri insieme a me per fare la città, con gli altri chiusi in sé che si aprono al sole come fiori quando si risvegliano, si rivestono, quando escono, partono e arrivano. Grazie a tutti.